Come intervento allora del nostro webinar del professor Stefano Loppi, velocemente due parole per descriverlo, ma insomma non basterebbero sicuramente a raccontare la sua carriera. Professore associato in botanica ambientale applicata presso il Dipartimento di Scienze della Vita, l'attività di ricerca è incentrata sul monitoraggio degli effetti biologici dell'inquinamento atmosferico con enfasi sull'uso dei licheni come bioindicatori, autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, incluso nella lista dei top Italian scientists della Via Academy. Il suo intervento verterà su effetti ecofisiologici di un prodotto bio-based di applicazione agricola su una specie orticola, la lactuca sativa, per noi comuni mortali l'insalata. Prego. Sì, buongiorno a tutti e grazie. Se posso mi prendo un minutino per due commenti generali. Prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori, Francesco Barbagli per la tenacia con cui continuano con questi workshop nonostante le difficoltà imposte dalle rispettezze della pandemia e guardando le sedie vuote che ho davanti a me, eccetto pochissimi addetti ai lavori, mi viene da pensare a chi vediamo in televisione la sera che fa dello spettacolo, a quanto deve essere triste insomma fare questo lavoro in questo in questo contesto. Ma tant'è. L'altra riflessione è quella che abbiamo appena sentito ora dal Parlamento Europeo. Io quando ho avuto la possibilità qua di confrontarmi e di esporre le mie idee ho sempre ammentato il la strategia farm to fork che ritengo fondamentale per il futuro qui in agricoltura. Quindi mi ha fatto estremamente piacere sentire e ribadire i concetti che sono stati detti prima dal dall'onorevole d'Organ del Parlamento Europeo. Credo anche che bisogna rendersi conto che la ehm insomma i concetti ambientali in qualche modo sono per i paesi e per le persone che hanno la pancia piena perché quando hai fame non hai troppo tempo da dedicare a questi temi. E allora eh non dobbiamo mai perdere il nostro punto di vista che è giustissimo ma ricordarci anche che l'Europa eh gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone quindi paesi occidentalizzati hanno una popolazione eh che eh si è confrontata al resto del mondo insomma India, Cina, Pakistan dove ovviamente c'è la metà della popolazione mondiale. Ecco allora qui abbiamo un'idea anche della prospettiva. Quindi l'agricoltura biologica, agricoltura sostenibile come è stata definita credo che vada anche certe volte certi termini possono essere un po' eh si prestano a fraintendimenti come quando un'azienda dice fa razionalizzazione allora prima sprecava. Se si dice agricoltura sostenibile allora prima era insostenibile. In realtà quella agricoltura ci ha sfamato finora eh non credo dobbiamo demonizzarla per forza ma dobbiamo renderci conto che cerchiamo di tutelare l'ambiente e la salute dei consumatori sempre più come con le conoscenze che possiamo dobbiamo fare in modo che l'agricoltura possa evolversi utilizzando prodotti i più possibile naturali che non vuol dire che di per se stesso non sono dannosi ma devono essere naturali eh e ovviamente senza avere conseguenze sull'ambiente e se poi questi vengono come il caso del distillato di legno di cui ora presto a parlare da un processo virtuoso quindi recupero di sottoprodotti di scarto di un tutto un processo di un di una filiera lo scarto della lavorazione della gestione del bosco che veniva utilizzata per la produzione di energia elettrica termica e poi biociarre e poi distillato di legno allora nell'ottica dell'economia circolare stiamo affrontando la questione penso assolutamente dal punto di vista giusto. Vengo al tema di oggi eh il tema il titolo vedete è piuttosto eh come dire arzigogolato è un po' misterioso in realtà come diceva chi mi ha introdotto insomma andremo a parlare eh degli effetti del eh distillato di legno sulla sulla lattuga quella che volgalmente genericamente la chiamiamo chiamiamo insalata insomma e vi spiego anche il titolo perché se avesse dovuto forse farlo genericamente l'avrei chiamato eh come poter lavorare e sperimentare eh nei laboratori universitari ai tempi del covid perché tutto questo lavoro nasce esattamente un anno fa ma proprio esattamente un anno fa quando inaspettatamente e anche se c'era qualche sentore nell'area eh ci hanno ci hanno chiuso tutto insomma io ho fatto esattamente il quattro marzo la mia ultima lezione in presenza eh con gli studenti senza restrizioni era la prima del corso il cinque marzo vi ricorderete hanno chiuso le scuole il sei marzo è stato chiuso dal sei marzo è stato chiuso tutto e quindi noi non ci arrendiamo insomma vedete anche dalla slide lavoriamo con tutte le precauzioni del caso e anche le difficoltà ovviamente nei laboratori ma continuiamo a mandare avanti la ricerca il titolo un po' naif origina da una tesi di questo ragazzo che vedete che l'anno scorso era studenti ora è lavorato il dottore il dottor eh Moratelli Filippo Moratelli che ha fatto la tesi con me l'anno scorso e che eh con il quale un anno fa insieme a Francesco Barbari avevamo deciso di cominciare a sperimentare appunto gli effetti del distillato di legno eh su alcuni parametri ecofisiologici della della lattura e questo ragazzo si è ritrovato a un certo punto a dover accelerare un po' tutto perché chiudevano e quindi il venerdì eh sei l'anno scorso eh ha dovuto chiudere l'esperimento dopo soltanto una settimana avevamo cominciato perché non c'era più i margini per poter andare avanti e il titolo appunto è stato mutuato dal titolo della sua tesi eh di laurea e una brevissima introduzione anche perché tanto a questo punto l'abbiamo già presentato cosa si tratta il distillato di legno fondamentalmente all'occhio un liquido colore abbastanza denso e fondamentalmente ehm ambrato è caratterizzato da un odore tipico di affumicato piuttosto acre insomma che viene ottenuto dalla distillazione appunto del del legno delle biomassa vegetali e in funzione della composizione della biomassa di partenza ovviamente le caratteristiche del di questi estratti possono essere possono essere diverse fondamentalmente ci sono alti contenuti di acido acetico da cui il nome è anche aceto di legno e oltre anche 300 tipi di molecole organiche tra cui polifenoli e tannini e tanti altri insomma tante una una miscela estremamente complessa con un sacco di ehm proprietà di in quello studio sperimentavamo un anno fa l'utilizzo del distillato di legno eh appunto biostimolante che ha un'attività di incremento delle attività funzionali di stimolo delle difese eh endogene proprio delle delle piante prodotto appunto da esperia e il suo utilizzo singolo oppure in combinazione con la lecitina di soia che viene utilizzata eh che nell'ambiente alimentare anche come eh sia come emulsionante che come attenzia attiva appunto per incrementare l'assorbimento nei nei vari eh trattamenti e l'esperimento abbiamo cominciato in maniera molto semplice per fare delle prove appunto abbiamo soltanto preso eh quattro parcelline di eh lattuga eh sei è il numero magico per per la statistica insomma numero minimo magico perché consente di fare certi tipi di analisi insomma con un minimo di servono almeno sei repliche quindi ventiquattro piantine di insalata le abbiamo coltivate nella nostra cella climatizzata in condizioni ambientali costante una temperatura di venti gradi l'umidità relativa al settanta per cento un fotoperiodo quindi alternanza di luce e di buio di dodici ore una una primavera questo è come si è presentato eh l'esperimento come si presentava le nostre piantine molto semplicemente coltivate un anno fa vedete che insomma abbiamo dovuto accelerare tutto perché c'era sentore appunto di dover chiudere molto rapidamente per cui anche non c'è stato il tempo nemmeno di spiegare alla studente eh l'utilizzo dei vari sensori per misurare i parametri ambientali e c'era dentro un termometrino un ighometrino di quelli a capello insomma banalmente per tenere sotto controllo i parametri. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quattro trattamenti eh fondamentalmente un utilizzo di una base di acqua non deionizzata ma minerale per gestire anche il pH insomma un po' come fanno l'agricoltore non è che utilizzano l'acqua eh deionizzata ma utilizzano l'acqua di fonte questo un po' più raffinato ovviamente quindi acqua come controllo le piante di controllo sono state spruzzate trattate con solo acqua. Poi abbiamo ehm trattato le piantine di insalata con distillato diluito una cinquecento abbiamo trattato eh abbiamo fatto la la c'è stato fornito anzi da da esperia insomma il distillato addizionato di lecitina al tre per cento anche questo diluito una cinquecento e poi per fare una prova che non ci fossero effetti della sola lecitina abbiamo fatto anche eh un trattamento appunto con solo la lecitina al tre per cento diluita sempre una cinquecento per avere le stesse dosi eh di trattamento. Così abbiamo misurato quattro parametri eh della quattro indicatori della varia performance fotosintetica che poi vi spiego un po' nel dettaglio velocemente la riflettanza foliare con questo indice si chiama NDVI l'efficienza fotosintetica espressa da questo rapporto che poi dopo vi faccio velocemente vedere l'indice di performance e fondamentalmente queste sono tre misure che vengono utilizzate nel caso della ricerca di stress ambientali quindi servono a capire se la pianta è sotto stress o meno il parametro che ci interessava è il contenuto di clorofilla l'altro parametro che ci interessava era la biomassa epigea quindi la parte di insata che poi va la lattuga che va in commercio insomma la parte eh di sostanza. Allora cosa è eh la riflettanza foliare? Molto molto rapidamente perché a volte cioè altrimenti rischiamo anche quando parliamo di di ricerca scientifica se non semplifichiamo un attimo si rischia di parlarci anche un po' addosso e qui si vede molto semplicemente questo indice che sta per la traduzione inglese indice della differenza vegetazionale normalizzata e sta ehm a rappresentare la eh rapporto tra il la luce che viene riflessa dalle 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 foglie nel visibile nel rosso nella scomposizione appunto la luce visibile all'aspetto del rosso e quella del vicino infrarosso near infrared ovviamente la luce nel nel vicino infrarosso ha un apporto energetico che non è adeguato non è sufficiente per fare fotosintesi e quindi viene viene riflessa e viene eh rimessa viene dissipata mentre la luce visibile viene assorbita e riflessa in certe dosi ovviamente la maggior eh quantità di spettro di luce visibile riflessa è verde per cui noi le foglie insomma vegetali vediamo verdi come hanno la la clorofilla e quando eh le piante cominciano ad andare sotto stress questi rapporti cambiano eh il near vicino infrarosso viene sempre eh ripresso di meno mentre aumenta eh la la componente del rosso divinisce quella del verde quindi le foglie cambiano colore palesemente e se noi misuriamo questi rapporti otteniamo eh questo indice qua NDVI. Questo è lo strumento che molto semplicemente ci consente alle nostre piantine di misurare questa riflettanza foliare questo questo indice qua è uno strumentino portatile e l'altra misura che abbiamo fatto sono emissioni di fluorescenza all'opposto prima abbiamo visto la luce veniva riflessa ora qui invece abbiamo misurato la luce che viene eh assorbita ovviamente le piante fanno una fotosintesi hanno bisogno di acqua di anidride carbonica e attraverso l'energia radiante del sole riescono a costruire la molecola base degli zuccheri CH2O che poi fa la la per 6 CH12O insomma le varie molecole di glucosio e derivate ovviamente l'energia che viene assorbita poi in qualche modo deve essere dissipata e da una parte la via azzurra qua è quella si chiama fotochimica cioè viene utilizzata per la fotosintesi per costruirci appunto gli zuccheri ad alta energia che quando vengono consumati liberano la loro porta eh energia appunto servono a quella mentre eh quella che non viene dissipata per via fotochimica quindi quella non utile che non viene utilizzata per la fotosintesi deve essere dissipata o come calore oppure viene remessa sotto eh forma di fluorescenza il bilancio di queste tre forme di dissipazione è abbastanza regolare e costante per cui conoscendone una noi stimiamo le altre ovviamente quando la pianta va in stress cambiano questi rapporti si riduce la quantità di eh energia fotochimica che viene messa in campo dalla fotosintesi aumenta quella della dissipazione per via del calore aumenta la eh l'emissione di fluorescenza e quindi attraverso questo grafico qua ecco quello che misuriamo è praticamente il rapporto tra FV che è la fluorescenza variabile FM la fluorescenza massima noi prendiamo una foglia gli diamo un impulso luminoso di luce forte per un secondo e misuriamo due parametri fondamentali F0 è lo stato iniziale della foglia quando tutti i centri sono fonte a recepire la luce FM è la fluorescenza massima della foglia che viene raggiunta FV la fluorescenza variabile è soltanto la differenza tra la fluorescenza massima e la fluorescenza iniziale questo è un parametro utilizzatissimo nell'ambito delle ricerche vegetali e viene conosciuto come efficienza fotosintetica l'altro parametro che misuriamo sempre sull'emissione di fluorescenza è l'indice di performance che è una combinazione di più parametri tre parametri di un processo sempre del dell'assorbimento dell'energia radiante del sole per la trasformazione e la conversione fotochimica questo è più complesso vedete queste misure si fanno o al buio o con luce verde per non danneggiare appunto non alterare le misure il contenuto di clorofilla viene stato misurato con tecniche non distruttive perché altrimenti non avremmo potuto ripetere chiaramente le misure fino alla fine ma con l'utilizzo di strumenti portatili le misure sono non distruttive ci consente appunto di ripeterle nel tempo e di seguire i vari andamenti con questo strumento riusciamo a dare una stima adeguata del contenuto di clorofilla per superficie quindi milligrammi sul metro quadro di di foglia e di solito funziona molto bene le faccio fare agli studenti come esercizio di intercalibrazione poi verificare con gli altri strumenti adeguati rispetto al fotometro HPLC quanto la misura è adeguata rispetto all'altra quella quantificante e poi ovviamente abbiamo misurato la biomassa delle piantine cioè sono state messe in stufa sono state essiccate poi passata la bilancia analitica per la misura appunto della biomassa setta vi ecco vi faccio vedere i risultati e ovviamente già si vede molto bene controllo trattato con lecitina trattato con distillato e distillato più lecitina i parametri dell'efficienza fotosintetica e il performance index e la riflettanza foliare vedete che fondamentalmente non ci sono sostanziali differenze tra i controlli trattati quindi la pianta anzi un leggero miglioramento della riflettanza al trattamento con il distillato quello che ci interessa è vedere un aumento importante nel piante trattate con distillato di legno e con distillato di legno più di citina per quanto riguarda la corofilla ma soprattutto per quanto riguarda la biomassa quindi le miligrammi di sostanza di sostanza secca appunto ottenuti alla fine degli esperimenti vedete qua che lì il dato è interessante perché la corofilla è leggermente maggiore nelle situazioni trattate con l'addizione dell'ecitina ma non è significativamente diverso dal punto di vista statistico rispetto al trattamento con il distillato mentre per quanto riguarda la biomassa l'aver aggiunto la lecitina in questo caso ha comportato effettivamente una differenza che ha il valore anche dal punto di vista statistico per cui da questo piccolo e rapido esperimento di un anno fa che è stato un po' la base anche per cominciare a ragionare a poche le basi per diverse cose abbiamo potuto concludere che trattando la nostra lattuga con distillato di legno abbiamo riscontrato un aumento di corofilla di poco meno del 50% e un aumento rispetto al controllo ovviamente trattato solo con acqua è un aumento della biomassa del 39% sono dati importanti perché questi sono dati estremamente importanti e l'altro dato importante che abbiamo visto che aggiungendo la lecitina al distillato si otteneva un ulteriore aumenti sia nella corofilla del 6% che nella biomassa del 12% qui abbiamo poi insomma questa è la pubblicazione che è stata fatta dell'articolo dopo la tesi di laurea del dottor Moratelli abbiamo pubblicato anche quest'articolo che è reperibile insomma è online liberamente scaricabile dalla online e abbiamo cominciato a fare alcune ipotesi ragionando un attimo su quelle che potevano essere anche i possibili sviluppi e le possibili implicazioni di quello che avevamo fatto con questo esperimentino allora guardando a quello che si ottiene che si trova di solito vedete qui ci sono una bella correlazione tra il contenuto di azoto nelle foglie e questo indice SPAD che è un indice di quantità di clorofilla insomma di presente ben utilizzato questo SPAD meter nell'ambito agricolo diffusissimo insomma per valutare certi tipi di maturazione insomma e quindi è chiaro che il rapporto tra carbonio e azoto deve andare un po' di pari passo perché altrimenti se manca l'uno o manca l'altro non si ha una crescita armonica e uno dei due diventa fattore limitante quindi allora ci siamo un po' detti se il distillato di legno stimola la produzione di clorofilla allora c'è bisogno anche magari di fonte di azoto che altrimenti l'azoto potrebbe divenire il fattore limitante perché c'è carbonio e quindi però manca per far crescere la biomassa manca ovviamente l'azoto e allora abbiamo pensato di poter fare degli esperimenti in ambienti moderatamente ricchi di CO2 quindi abbiamo fatto in modo che non gli mancasse la CO2 nell'ambiente a essere sicuri per la fotosintesi insomma che l'ambiente fosse non troppo ricco ma con CO2 sufficiente e con delle fonti di azoto aggiuntive ovviamente nell'ottica sempre di quella che è stata definita prima la agricoltura sostenibile insomma le fonti di azoto è facile uno prende vari nitrati d'ammonio i vari fertilizzanti in commercio e glieli dà noi cercavamo delle fonti diverse che potessero essere date direttamente sempre con un'ottica alla sostenibilità a questa idea che è implicita dentro il far to fork appunto di andare verso questa sostenibilità fonti e potessero essere aggiunte al distillato e così è nato il l'altro esperimento sempre ai tempi delle restrizioni covid è arrivato una delle ultime new entry nel gruppo di ricerca il dottor Riccardo Fedeli che si è trovato stavolta parecchie più piante di lattuga da dover trattare e gestire e cosa abbiamo fatto? Allora innanzitutto abbiamo fatto stavolta un esperimento in cieco perché ho chiesto a Francesco Barbagli di fornirci i prodotti senza dirci nemmeno cosa c'era dentro perché almeno non rischiavamo di influenzarci nell'esperimento quindi abbiamo fatto i trattamenti con quattro prodotti e poi dopo io ho saputo soltanto un paio di giorni fa insomma per farvelo vedere oggi nella presentazione cosa c'era e cosa c'era dentro quindi uno dei quattro contenitori conteneva il classico distillato di legno quindi a partire dal castagno legno di castagno l'altro va sotto il nome commerciale di biodea flavor quindi estratto poi insomma c'è chi ce lo può dire meglio di me stratti comunque di essenze varie glicolici addizionati di lecitina di soia un prodotto dal nome commerciale Vital Vegan con concime organico azotato e l'altro dal nome ancora in fase di ricerca volutamente sotto coperta ancora da segreto di sperimentazione e non so neanche io sa ci sia l'ho chiamato biodea test tanto per dargli un nome che ci ricordiamo posso dire che questi tutti e quattro i prodotti insomma hanno lo stesso odore un po' acre e pungente del distillato di legno fondamentalmente insomma il concetto da empirico insomma abbastanza simile con differenze ma insomma si riscontra sempre questo odore ecco cosa abbiamo fatto abbiamo fatto ancora qui trattamenti foliari con le soluzioni acquose controllo quindi spruzzando con acqua stavolta abbiamo cambiato dietro accordo insomma con barbagli per questo tipo di sperimentazione due tipi di diluizioni diverse una a 200 e una a 400 e quindi le nostre piantine sempre il numero magico di 6 le abbiamo trattate stavolta non in fitocella l'abbiamo avuto un po' più di tempo per organizzarci e sempre a richiesta di barbagli abbiamo fatto anche un ulteriore esperimento in un set dei piantine quelle trattate con il distillato una a 200 al momento del trapianto il panetto è stato immerso in una soluzione di distillato diluito una a 200 ecco qua si vede bene la piantina l'abbiamo tolta la fitocella è stata immersa bene in questa soluzione e poi sgocciolata e trapiantata nel nel suo panetto le misure sono le stesse che abbiamo fatto nell'altro esperimento stavolta vogliamo aggiungere i dati della biomassa non solo epigea quindi la parte che va in commercio ma anche la parte radicale delle radici per vedere se ci sono effetti che l'altra volta non abbiamo fatto in tempo a verificare i dati ancora vi anticipo e la biomassa non sono ancora disponibili presento quelli della clorofilla e vi posso dire che dal punto di vista degli altri indicatori di stress la riflettanza l'efficienza fotosintetica l'indice di performance non ci sono state nessuna variazione quindi tutto regolare e qui vedete insomma il dottor fedeli e dottor bannini che fanno le misure su queste piantine quindi si lavora tutti i bardati a luce debole verde con strumenti e ci si stanno per far tutte quelle misure a tutte quelle piante impiegano qualcosa che si avvicina alle 12 ore di lavoro al giorno quindi insomma vi devo ringraziare per questo lavoro prezioso i risultati li organizzati stavolta per facilità di comprensione come rapporti tra le piante trattate e quelle di controllo quindi questo cosa mi dice che se eh il valore attorno a uno non c'è nessuna differenza se è più alto di uno il dato è positivo ovviamente ho tracciato due righe rosse vedete un dieci per cento di variabilità naturale quindi quei valori oscillazioni all'intorno del dieci per cento non sono ritenute significative quindi superiore al dieci per cento già ne riteniamo indicative di una performance eh maggiore intanto non ci sono performance più basse di zero nove quindi non non ci sono siamo tutto nella norma cosa vogliono dire queste sighe dl distillato di legno due e quattro sono le diluzioni due c'è a due c'è una 200 una quattrocento eh bf e biodea flavor vv vital vegan e bt è il famoso biodea test sconosciuto dlz la terza colonna è il distillato di legno in cui abbiamo preventivamente insuppato il panetta al momento del trapianto ecco si vede bene due cose possono essere dette innanzitutto che le generalmente le diluzioni eh maggiori quindi a quattrocento funzionano meglio eh nel distillato e nel biodea flavor e il vital vegan anche questa una performance leggermente maggiore la diluzione a quattrocento ma sa fondamentalmente siamo abbastanza eh vicino entrambi i dati di prodotti vital vegan entrambi le diluzioni eh sono eh positivamente eh sono favorevoli insomma fanno aumentare i risultati del contenuto di clorofilla mentre il biodea test eh ha un lato eh un po' al contrario nel senso la diluzione eh minore quella una duecento ha eh effettivamente il valore più alto rispetto a quella ehm uno a eh quattrocento quindi prima conclusione insomma molto rapida di questo esperimento quindi abbiamo concluso che eh quando le piantine sui giovani sono piccole nelle prime fasi del crescimento una diluzione maggiore sembra più efficace tra l'altro da confrontarla che con il primo esperimento dove eh avevamo una diluzione una cinquecento quindi forse eh questo è da considerare tra l'altro limita il prodotto che si va a dare quindi c'è minore costi minore eh aggiunta di sostanze questo è assolutamente positivo per quanto riguarda questo questo tipo di approccio. L'aggiunta di fonti azotate evidentemente è utile ha dato risultati estremamente positivi e soprattutto l'indicazione da sviluppare nelle ricerche future è che la il trattamento delle radici eh col distillato di legno è estremamente utile una cosa che avevamo già osservato in alcuni esperimenti preliminari su semini di pomodoro insomma questa azione auxina like delle varie sostanze contenute nel distillato stimolano in maniera molto importante l'accrescimento radicale e su questo io volevo approfittare per due due cose innanzitutto eh devo ringraziare il dottore Andrea Vannini che segue eh tutti gli esperimenti e ovviamente mi aiuta in una maniera eh fondamentale devo ringraziare tutti i ragazzi che sono bravissimi che lavorano con me eh quindi Andrea Vannini li vedete da sinistra a destra nella foto siamo fatti qua fuori all'Accademia dei Fisocritici in posizione lì della balena ben augurante dottoressa Elisabetta Bianchi Tania Contardo Martina Gattacaso Mary Banjafarova Giulia Canali mancano dottor Fedeli Riccardo Fedeli e dottoressa Viviana Marisca che sono le ultime due new entry non c'era nel momento della eh della foto e con questo vi ringrazio ecco applauso dei pochissimi presenti che che lo possono fare intanto grazie per essere stato assolutamente nei tempi cambiando un po' la modalità rispetto agli altri webinar avremmo deciso di fare le domande subito dopo il suo intervento così diciamo la sua relazione è un po' più fresca anche nella mente di chi eh ascolta ne ho due la prima è questa gli stessi risultati che ha mh osservato ecco su questo prodotto insomma io la chiamo insalata poi mi perdonerà il termine volgare si aspetta che eh accadano anche su altri ortaggi? Allora io dovrei ringraziare la persona che ha fatto questa domanda perché mi dà l'opportunità di dire che eh in relazione anche a quello che dicevamo all'inizio se vogliamo andare veramente verso una sostenibilità dell'agricoltura dobbiamo anche riconvertire i nostri usi da consumatore quindi una delle cose che hanno una minore sostenibilità indubbiamente è il consumo di carne noi il grosso dell'agricoltura serve alla nutrizione animale non alla nostra e questo con una popolazione di quasi otto miliardi di persone insostenibili cioè questo chiaramente non possiamo pensare e quindi la ricerca di eh alimenti a un alto contenuto proteico vegetale elevato è fondamentale quindi stiamo lavorando già a nuovi progetti eh con barbagli di cui uno eh sta iniziando a breve non uno stiamo predisponendo la parte progettuale per un progetto della regione toscana lavoriamo sui lavoreremo sui ceci quindi eh piante eh ha un alti dopo la soia e il fagiolo il ceci e il legume il terzo legume al mondo più consumato altissimo contenuto proteico pianta che con i batteri di azoto fissatori va anche a arricchire di azoto il terreno pianta estremamente rustica quindi si adatta veramente a bassissimo impatto ambientale che favorisce l'agrobiodiversità e che in combinazione con eh appunto l'utilizzo di prodotti naturali come il biochar e come il distillato di legno contiamo di valorizzare per realmente per il futuro e per ambienti come quelli eh specialmente nel Mediterraneo insomma dove c'è assolutamente richiesta di questo tipo di eh di approcci quindi la risposta è sì e stiamo indirizzando la ricerca verso questo tipo di di ricerca qua di sperimentazione qua questa strada ne avrei un'altra che è questa la pianta riuscendo a sintetizzare più energia grazie ad aumentata fotosintesi riesce ad aumentare anche la propria capacità di difesa endogena? Ecco questa è un'altra domanda interessante probabilmente dovrà trovare il bilanciamento nelle cose che dicevo prima dal punto di vista della clorofilla e ho presentato risultati perché proprio lo che conta è quello della biomassa e magari se ci sarà occasione quando riusciremo a fare la biomassa epigea epigea vedremo anche eh il risultato all'apparenza insomma sono tutte piante specialmente quelle con il distillato sembrano mh vigorose insomma e queste basse concentrazioni ovviamente hanno eh il come dire il pregio di stimolare di fare da biostimolante per in questo senso forse c'è bisogno magari di dosi maggiori per stimolare le difese endogene che al momento non abbiamo eh indagato su questa pianta anche qui abbiamo predisposto un progetto eh vedremo gli esiti insomma anzi abbiamo predisposto un paio di progetti a dir la verità di uno al ministero si può dire insomma ma è andato a spedire al ministero per le al MIFA per le dell'agricoltura insomma con eh il bando dell'agricoltura biologica quindi speriamo di contiamo di verificare questa cosa sulle sugli olivi e sulle sulle olivicoltura grazie mille allora al professore Stefano Loppi grazie